Amici di MG Channel, ci troviamo qui al Palace al termine dell'abitevole della MG Videx alla Sieco in Pavida, Ortonio. Siamo con Riccardo Vecchi, cresciuto nel divaio dell'MG Videx, è ormai divenuto pietra miliare della formazione del coach Massimiliano Ortezzi. Riccardo, sicuramente un ottimo test in vista della nuova stagione questa. Sì, sì, assolutamente un ottimo test. Abbiamo la partita che facevamo in casa, quindi abbiamo dato anche un'ottima risposta proprio che è venuto. Siamo un po' pesanti sulle gambe per la preparazione, ma è normalissimo e c'è stata anche l'opportunità per i nostri, tra virgolette, i panchinari di fare il campo e di abituarsi al gioco. Sì, sicuramente è stata fatta girare la squadra appunto per avere minutaggio nelle gambe. Secondo te Riccardo, vista la tua esperienza, dove può arrivare questa MC Videx in questa stagione? E questa è una bella domanda. Sicuramente abbiamo un organico molto competitivo per raffrontare il campionato del migliore dei mondi. Spero vivamente che arriviamo il più avanti possibile e finire il più in là possibile. Sicuramente avremo bisogno anche del pubblico, del Palace, che stia vicino ai ragazzi e quindi facciamo un appello a tutti i tifosi per questa stagione, per il posto fisso. Assolutamente sì, il posto fisso deve essere vostro a partire già da sabato che abbiamo un altro amichevole qui, un altro che costruire. Ecco qui, giusto perché i sogni si costruiscono a due. Stringiti al cuore MC VITX! Grazie!